A campo basso, questa è la seconda opera che viene ultimata. Sono, come potete vedere, dei moduli, non dei container. Ora che li vedrete all'interno, troverete una situazione di alta tecnologia con ambienti separati, posti letto separati, a pressione negativa. Ogni posto letto è, a tutti gli effetti, un posto letto integrativo intensivo, quindi dotato di tutta la strumentazione tecnologica necessaria. La struttura è stata costruita in adiacenza al pronto soccorso ed è collegata con degli appositi percorsi perché può essere utilizzata anche, non solo come terapia intensiva, ma anche come un'area grigia, quindi come un'estensione del pronto soccorso. In questo piano di intervento sono previsti gli ulteriori sei posti letto di terapia intensiva presso l'ospedale di Isernia e che verranno consegnati nella settimana prossima. Quindi in totale sono 26 posti letto di terapia intensiva. Si aggiungono i 39 posti letto di terapia intensiva attualmente attivati. Di cui 26 da ASREM e 13 dei privati accreditati, 7 a Neuromed e 6 a Genet. Nella speranza che non si possano utilizzare, che non si devono utilizzare, per carità. Ma sono utilizzabili al momento? Assolutamente sì. Sono già collegati con i cassi medicali, ci sono le apprezzature. Ovviamente non verranno utilizzati oggi, in questa giornata. Noi ci auguriamo veramente, lo ripetiamo, di non doverli utilizzare. Però era una risposta che era stata già programmata da tempo. Per la verità anche in fase 1. Si ricordi al Presidente che avevamo avanzato questa ipotesi. Il 4 novembre 2020. Però abbiamo visto ancora degli operari lavorare. Sì, stanno facendo le ultimazioni dell'esterno della struttura. Ma anche quando abbiamo fatto la consegna di quelli di campo basso, c'erano delle piccole ultimazioni da realizzare, che però, ora che entrerete, vedrete che non interferiscono con l'interno. Volevo chiedere, a proposito della terapia intensiva dei 10 posti, attualmente la situazione dei contagi è nettamente migliorata, pazienti gravi fortunatamente non ce ne sono, quindi questa terapia intensiva potrebbe essere utilizzata anche per i pazienti non corrigi. Posso precisare una cosa? Prego, prego. Il discorso delle ospedalizzazioni per il Covid è un discorso molto particolare, perché in Molise, soprattutto in Molise, la fluttuazione dei numeri è molto rapida, sia in caso di curva discendente, sia in caso di curva ascendente. Quindi era importante realizzare queste strutture che ci offrono una garanzia. Dopodiché sono strutture che possono essere utilizzate. Ricordate tutti che l'ospedale di Termoli non era previsto, almeno nelle nuove fasi, come ospedale da destinare a pazienti Covid. Abbiamo avuto un piccolo di quarta fase con la necessità di attivare anche qui le poste di Covid e lo abbiamo fatto. L'augurio è quello di non dover utilizzare, ma sia queste strutture, che sia anche quello che qua realizzeremo con l'app Covid Cardarelli. è strutturale. Quella è strutturale, non di emergenza. Cioè, strutturale significa che quell'intervento rimarrà. E un potenziamento dell'ospedalità molisana, con i 14 posti di terapia e di ventuno di subintensiva, quelli sono strutturali, questi sono di emergenza, potrebbero anche essere immobilitati nel caso in cui non ne avessimo più necessità. Ma quelli no, quelli dovranno rimanere. E in quell'intervento è previsto non solo la realizzazione di un posto di detto, ma anche un restyling dei pronto soccorso, sia di Campopasso che di Termoli e di Sera. Quindi, quando è stato approvato quel piano che ha previsto un impatto così grande, non si è pensato solo all'immediatezza del Covid, ma anche a un potenziamento del futuro delle realtà. Non parlo tanto dell'ospedale di Termoli, che è una presenza dell'ospedale di Sernia, abbiamo un pronto soccorso molto datato in cui questi interventi ci consentiranno di migliorare e di ristrutturare l'assistenza. Però diciamo anche, e questa notizia l'ho già data nei giorni scorsi, la riparisco, che l'ospedale di Termoli è destinatario di un intervento finanziario di 14.800.000 euro che servirà per la ristrutturazione globale dell'ospedale. Quale personale per l'utilizzo e il quale di questa struttura? Allora, la carenza di personale è un problema che noi abbiamo e che conosciamo bene. Non è tanto la capacità di realizzare nuovi posti letto, ma piuttosto è quella di utilizzare l'utilizzo delle risorse. Non a caso queste strutture sono costruite in adiacenza alle strutture ospedaliere, proprio perché nell'ambito di una razionalizzazione personale è più facile, sempre con tanto servizio da parte degli operatori, riuscire a garantire l'assistenza sull'ulteriore posti letto. Tanto per farlo un esempio, a Campobasso avevamo due posti letto di terapia subintensiva, li abbiamo portati a 80 posti letto. Il personale che avevamo era sempre lo stesso, come abbiamo proceduto? Abbiamo fatto degli accorpamenti, quindi abbiamo dovuto accorpare delle patte e utilizzare il personale per prestare attenzione a malati Covid. Nel frattempo stiamo procedendo con le procedure concorsuali, stiamo assumendo dall'avviso pubblico che abbiamo fatto a tempo determinato sia per gli infermieri professionali che per gli ossi, abbiamo paghito numerose procedure concorsuali anche per il personale medico, abbiamo avuto l'apporto dei medici dal pregozzo ELA, l'apporto dal campo della produzione civile è attivato dalla regione. Insomma, è una battaglia che stiamo contendo su tutti i fronti. C'è quello delle attrezzature, c'è quello del personale. Oggi è un passo sulle attrezzature. Una domanda alla fine commissaria. Lei è esperienza, è sentonata, è sentonata, è sentonata, è sentonata, è sentonata, è sentonata, è sentonata per noi per poter lavorare bene. Se ne accorta o credi ancora che sia praticamente una regione assolutamente non unibile sotto questo aspetto. Non unibile, qualcuno non coesa. Guardi, io sono qua da pochi giorni e in questi pochi giorni ho tratto questa impressione cognitiva. Ho avuto la possibilità in questi pochi giorni di soffrire un territorio generoso, di bellezze, di persone gentili e di grande disponibilità. È chiaro che gli obiettivi si raggiungono quando tutti sono orientati verso quell'obiettivo e quel e quella di vista. Quali gli obiettivi principali da parte del commissario? Quella del stato discriminato per poter cancellare il debito o quella sostanzialmente di poter favorire una ripresa anche da tutto in vista emozionale ma soprattutto da vista in vista programmatico? Guardi, credo che io e la commissaria Degrassi abbiamo di impiare qual è il nostro obiettivo che è quello di far uscire il più presto possibile questa regione dal piano di rientro ma per poter riconsegnare la sanità per poterla riconsegnare nelle mani dei molisani è con questo spirito che vogliamo lavorare e portare i risultati in questa regione. quindi chiederebbe sacrifici su altri sacrifici? No, abbiamo detto che l'impegno è quello di far uscire far uscire non vuol dire necessariamente sacrifici ma lavorare per ottenere questi risultati c'è la possibilità di una cancellazione del debito? Siamo consapevoli che è un lavoro molto impegnativo adesso siamo qui da pochi giorni stiamo analizzando i dati ed è francamente troppo presto per trarre delle confusie vorrei chiedere al dottor Florenzolo che ho conosciuto anche della terapia intensiva quanto tempo vedete qua questa struttura? Quanto? La struttura resterà per il tempo necessario nessuno di noi nessuno in Italia sa quale sarà il tempo della pandemia tutti stiamo lavorando perché questo incubo riesca la progressione della campagna vaccinale che viene immunizzata ai primi posti in Italia è indirizzata proprio a questo ad acquisire l'immunità di Greggia e quindi conseguenzialmente l'acquisto dei ricoveri il tempo sarà quello che sarà necessario quindi resterà comunque fino alla fine della pandemia di là o meno dei ricoveri all'interno ma anche la città un utilizzo l'ho detto prima e glielo ripeto non ha un utilizzo solo per terapia intensiva noi quando abbiamo contattato i tecnici del ministero prima abbiamo chiesto proprio una flessibilità cioè non solo esclusivamente terapia intensiva ma anche la possibilità di utilizzarlo come aria grigia quindi come l'investigazione dei ricoveri per il prodotto soccorso quindi ha un utilizzo molto funzionale grazie Presidente l'emergenza non è solo sanitaria ma è anche economica oggi il tema all'ordine del giorno sono le riaperture in Italia e in Molise cosa ci dice? Allora noi come lei saprà come avrà seguito dalle cronache nazionali abbiamo ottenuto conferenza delle regioni tra poco si aprirà la conferenza stato regioni ma le proposte noi le abbiamo già approvate per le riaperture perché riteniamo che in maniera graduale in maniera in sicurezza si possano riaprire si possa ripartire noi siamo convinti che si possa ripartire da attività prima di tutto che si possano svolgere all'esterno ma io sono convinto anche che le attività che si debbano svolgere all'interno possano ripartire abbiamo redatto delle linee guida in particolare erano per i ristoranti per i bar per i teatri cinema per le palestre per le piscine che oggi presentiamo in questo momento il presidente Sedriga per conto di tutti i presidenti italiani sta presentando al governo e il governo penso che chiederà il parere al CTS nazionale al comitato tecnico scientifico e confido nel fatto che di qui a qualche giorno possiamo programmare una riapertura anche se graduale se fosse per me io riaprirei i ristoranti per prima il Molise si avvia verso la zona gialla dopo l'anticipazione di quello che è l'indice di contagio dalla parte dell'istituto superiore di sanità allora gli indici che io ho i dati perché mi sono stati comunicati stanotte li stiamo esaminando sono in netta e seppur lenta progressione positiva e siamo ancora sotto uno con il l'indice RT a 14 giorni era 90 se non ricordo male leggermente sopra uno con l'indice degli ospedalizzati e con l'RT dei sintomatici siamo sotto uno le terapie intensive sono calate dal 41% di occupazione covid dal 38% le aree mediche sono calate dal 41 al 21 e sono dati che ci confortano i focolai sono in decrescita anche se come diceva il dottor Provenzano se poi ci devo dargli ragione in una regione piccola come la nostra dove i grandi numeri funzionano poco è facile che l'RT cambi repentinamente per cui io sono sempre molto prudente anche se ritengo che la riapertura si possa gestire in sicurezza anche con un RT non proprio desiderato su questo territorio ci sono decine di mamme che si stanno organizzando per chiederle di adottare l'ipotesi di una DAD facoltativa lei cosa risponderebbe? Allora ho fatto bene a farmi questa domanda perché io devo chiarire che la DAD non è competenza del Presidente della Regione a noi Presidenti di Regione è stata tolta questa competenza e competenza delle autorità scolastiche quindi laddove i presidi e la direzione regionale scolastica decida che è positivamente adottabile una modalità del genere lo potrebbe fare lo potrà fare io non ho questo potere se poi vuol sapere come lo penso io la DAD facoltativa ha delle criticità che vanno ben esaminate perché la DAD facoltativa toglie la socializzazione dei ragazzi io sono stato docente lo sapete per anni sono vettore docente universitario e la socializzazione e la socialità di incontro è fondamentale nell'educazione e nella formazione della personalità dei ragazzi specialmente in ambienti non universitari per cui bisogna prendere con le pinze una decisione del genere però ripeto non competi a me io sono molto rispettoso dei ruoli e lascio alle autorità scolastiche regionali che ho inserito in unità di crisi la decisione di una modalità del genere ecco invece per quanto riguarda il personale prima avete accennato al discorso del personale e quindi anche dei bandi mi chiedo al dottor Folle Ventano per quanto riguarda il Santimotio sono anni che c'è questa problematica molto più finita insomma ecco ci sono dei giocci in particolare a di vari questi bandi ecco c'è un progetto un'iniziativa al sostegno dell'ospedale di Termoli noi abbiamo fatto un'operazione molto importante mi dispiace che l'abbiamo dovuta realizzare nel passaggio tra una struttura commissariale e l'altra qua parentesi abbiamo avuto dei colloqui molto importanti questi due giorni che ci vedono tutti abbastanza sereni e contenti di lavorare insieme abbiamo fatto una modifica dell'atto aziendale abbiamo previsto presso il Santimoto un'istituzione di una direzione sanitaria quale struttura complessa proprio perché dobbiamo dare un senso operativo a tutte le realtà ospedaliere permoese quindi siamo esse Termoli Serni Campobasso ma anche Agnone avere in ognuno di questi ospedali una guida sicura una guida certa e questa è la base io quando sono arrivato qui il 29 febbraio del 2020 immaginavo di dover svolgere questo tipo di attività l'anno di pandemia ci ha reso veramente complicato e difficile perché eravamo presi ogni giorno ogni minuto da affronteggiare altre situazioni piuttosto intendenti e necessarie da risolvere adesso finalmente stiamo riuscendo a mettere in campo quello che avremmo voluto realizzare quindi la modifica dell'atto aziendale in primis la reiterazione dei concorsi la ultimazione dei concorsi per le strutture complesse sapete che stiamo deliberando in questi giorni i direttori facendo funzioni delle varie realtà ospedaliere ma a presto porteremo a conclusione anche i concorsi per primario che è una cosa che si attende da tantissimo tempo perché è importante il concorso per primario perché con tutto il rispetto di tutti gli operatori della sanità sappiamo tutti che per gli spedenti che in fronte del primario è qualcosa di importante per la riuscita delle attività del reparto e diventa anche più attrattivo il reparto se funziona e quindi i nostri concorsi possono anche non andare sul troppo deserto dove si sono sindaco si aspetta qualcosa di positivo dall'invento in giro d'italia sarà la ripartenza per una termore che ha sofferto davvero questa pandemia speriamo che sia il premio per tornare ad essere una città e quando arriva questo bel sole vuol dire che in qualche maniera annuncia l'estate e quindi per noi che siamo un po' turistico teniamoli di dengueciato che tutto ciò possa avvenire al più breve e soprattutto tornare a fare una vita serena a conture una vita serena a tutti quanti alle attività commerciali di riavviare dentro le loro economie e soprattutto tutti quanti che vorranno venire a termore a godersi in mano in piena tranquillità ho l'occasione per fare le riune del giro d'italia ma quanto ci sarà la presentazione? il giro d'italia da un punto di vista ufficiale c'è stata fatta la presentazione da parte del RCS però noi dovremmo tenere conto che verso la fine di aprile vogliamo fare un pre-evento per annunciare questo giro d'italia e soprattutto per ringraziare la regione molise che contribuirà insieme a Termoli allo sforcimento del giro d'italia che non sarà soltanto Termoli ma quest'anno in Molise avrà la possibilità di essere vista a livello nazionale e internazionale attraverso la televisione perché ci saranno più passaggi sul nostro capitolo possiamo dirlo quindi Termoli poi da Poggia torna in Molise facendo tutto il fortore collina in quel di guardiareggia e poi va verso la campagna grazie sindaco sindaco tornando alle questioni invece di carattere sanitario di queste ore la notizia della inaugurazione che ci sarà lunedì l'apertura dell'atteso palairino trasformato in punto vaccinale ed è di ieri anche la delibera dell'asrem che accelera l'avvio dei tamponi in modalità drive-thru qui nel piazzale esterno del Santimoteo tenete conto che quando siamo stati in una situazione emergenziale dovuta alla variante inglese era più o meno la metà di febbraio a distanza di un mese così come era arrivata la notifica preliminare dal ministero che ci avrebbero consegnato i moduli entro 30 giorni e 10 giorni a partire dall'inizio dei lavori quindi sono nel pieno rispetto della tempistica siamo riusciti ad ottenere questi moduli di rianimazione siamo riusciti ad ottenere e a far installare il drive-thru perché abbiamo visto che c'erano delle criticità e soprattutto da lunedì con l'auspicio che possono arrivare più presto i vaccini iniziare a fare una vera vaccinazione di massa e solo a tutto evitare che molti del basso Molise siano costretti ad arrivare nell'alto Molise per la vaccinazione grazie volevo aggiungere una cosa su quello se posso rimettere se quello che ha detto sì noi stiamo realizzando con tutte le realtà del territorio e delle unioni di opportunità abbiamo la collaborazione della stragrande maggioranza dei sindaci per l'effettuazione dei tamponi per tutte le necessità io stesso mi sento con il sindaco Roberti più volte al giorno anche per cose che possono apparire banali come un figo da allestire per un punto vaccinale e quindi sono veramente contento che oltre a questa notizia a questa realtà dei moduli possiamo anche dirvi che ci sarà sia l'attivazione del palairino che del drive-thru che avete visto quando siete arrivati a spiegare a spiegare a spiegare